ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata oggi vorrei parlarvi di un articolo che appare sul trimestrale revolution come potete vedere ecco anche in copertina qua abbiamo il carrera con movimento 02 per cui vado subito vado subito all'articolo che parla diciamo così di questo di questo orologio che non ha niente di particolare al di là della cassa in oro è un bel un bello orologio un bel movimento insomma lo 02 l'abbiamo detto ecco questa composizione no di questa composizione di colori cioè l'oro e il nero riprendano un po quella che era la livrea della lotus 98 t no la livrea john player special ecco sappiamo che tagore era legata con era legata insomma col mondo delle col mondo delle corse e oggi insomma jack oyer insomma aveva cercato in tutti i modi ecco questo questo legame proprio con con le corse quindi che ragazzoni maria andretti jody schecter insomma grandissimi grandissimi campioni che indossavano il oyer e lo e quindi lo hanno reso famosissimo a questo connubio no col mondo delle col mondo delle corse ma va detto che qua viene tralasciato una parte fondamentale come già vi abbiamo detto come già vi ho detto altre volte che è la parte di tag ovvero quella quella azienda che negli anni 80 compra oyer perché non andava non andava bene e la la rilancia e la rivenderà poi al gruppo lv match per un mucchio di soldi la rilancia creando veramente un connubio vero reale con il mondo con il mondo delle corse per cui e ecco che riguarda nel nella fattispecie oggi che era il proprietario insomma il figlio del proprietario poi diventerà il proprietario della di tag che direttamente era coinvolto prima con williams e poi ancora più direttamente ancora più pesantemente in modo importante con con la mclaren quindi abbiamo avuto ecco quell'evoluzione lì abbiamo avuto in quegli anni gli anni credo più importanti che hanno che hanno che in un momento in cui l'orologeria tradizionale meccanica andava e andava malissimo e i vari marchi andavano malissimo tag oire invece era indipendente e andava molto bene quindi aveva trovato una sua un suo modo diciamo così di andare di andare avanti ora il titolo di questo di questo vedete qui è un titolo di critica no dell'amministratore questo è frederic arnaud arnaud è il proprietario del gruppo lvm h padre ed è credo l'uomo più ricco del mondo ma insomma se non è l'uomo più ricco del mondo sarà il secondo o il terzo ma insomma è gente che diciamo così non gli mancano i soldi per pagare la pizza il sabato sera ecco è gente che diciamo così sta benino non ha particolari problemi problemi di soldi a siccome nel gruppo lvm che c'è luis vitton che ci sono un mucchio di un mucchio di brand che vanno dal vino alle borse a insomma al fashion e anche l'orologeria perché c'è anche per esempio zenith no che fa parte dello stesso gruppo ha messo al capo di tagoyer ci ha messo il nostro federico arnaud che è un ragazzo sveglio ragazzo dinamico è un ragazzo che è un amante diciamo così dell'informatica però per quanto riguarda insomma questo questo inizio no poi naturalmente io faccio questi video anche perché sono convinto che lui li veda questi video sono convinto che questi cioè io sono convinto comunque sia che questo che questi video facciano un impatto e ho anche fiducia che arnaud cioè che frederick arnaud possa prendere diciamo così una visione concreta almeno quello che credo io sia concreto di tagoyer che non combacia con quello che per il momento ecco diciamo inizialmente ha visto lui lui inizialmente ha visto un'azienda che si occupava anche di informatica lui ha un lui insomma ha delle conoscenze nell'informatica una passione per quanto riguarda l'informatica per cui secondo me si era legato diciamo così a tagoyer per questi per questi motivi con mia grande felicità in questo articolo non si parla di tagoyer con il connected quello lì insomma quello informatico insomma quello lì che c'è movimento che non c'è movimento insomma che c'è una specie di iphone insomma quello orologio lì quello smartwatch lì smartphone smartphone smart smartwatch va bene e detto questo per fortuna ecco questo in questo articolo non non appare quel particolare quella tipologia insomma di tagoyer ma si fa riferimento si parte naturalmente da quell'orologio lì che vi ho fatto vedere no quello in oro per poi che riprende insomma un orologio del passato per poi diciamo così andare avanti e parlare sempre di orologi che sono del passato no quindi lui che cosa che cosa ha fatto lui ha assunto un esperto di vintage secondo me ha fatto benissimo e poi riprende sta riprendendo insomma gli stilemi dei vecchi orologi per esempio questo qui che è il dark lord di cui io vi ho parlato insomma lo trovate anche lo trovate anche su lo trovate insomma anche nella nella playlist nella nella storia della storia dell'orologeria ripartendo da lì il dark lord utilizzava il calibro il calibro 77 40 e insomma loro ecco hanno l'hanno ripreso in due versioni insomma una era una versione anche di quello io ne ho parlato una versione a numero limitato che era stata fatta per l'only watch e poi diciamo così è uscito questo qua che anche un bello orologio questo qua tutto nero che si può trovare appunto che ho un monaco tutto nero che riprende insomma al dark lord non credo che ci abbia determinati determinate diciamo limiti ecco di una che cos'è una limite di special edition quindi non credo sia limitato nella tiratura e lo si possa e lo si possa comprare detto questo l'idea che mi sono fatto io diciamo così di di frederick arnovo in questa chiamiamola così seconda fase che è già migliore della prima fase nella prima fase appunto c'era quest'idea del connected con questo orologio smart watch che che spero sia li vengano tagliati tutti i fondi a quella a quel progetto lì per lo meno in questo in questa fase qui c'è una ripresa ecco di di quelli che sono i vecchi stilemi del di tagoiere e una valorizzazione diciamo così di di valo di di tagoiere di per sé questo non è nulla di sbagliato quello che farebbe un qualsiasi altro amministratore delegato forché lui non è solo un amministratore delegato cioè lui è il figliolo del proprietario quindi lui fa parte della famiglia che è proprietaria di tagoiere per cui naturalmente io da uno che è il proprietario mi aspetto qualcosa di più di un semplice amministratore delegato quindi lui insomma secondo me dovrà prendere poi anche una decisione e dire io voglio fare l'amministratore delegato a vita oggi mi occupo di tagoiere domani zenith domani andrò a fare le borse a louis vuitton oppure il vino dove dove appunto dove lo producono qualche posto tanto loro hanno tutto questo è il punto oppure oppure appunto prendo mano questa qui questa azienda che tagoi che ha un heritage incredibile e mi rendo e divento un personaggio importante dell'orologeria come lo è stato jack oyer come lo è stato oggi e poi successivamente per quanto riguarda per quanto riguarda l'orologeria io per farvi l'esempio plastico dell'errore che sta che sta portando avanti frederick arno è scritto praticamente qua era chiuso era chiuso in questa questa fotografia quando noi abbiamo qua lui con questa macchina che sarà un poche me lo immagino non so che cosa sarà quello che è con patrick damsi patrick damsi patrick che dice è la figura perfetta per rappresentare questa partnership e non abbiamo mai concluso nulla ufficiale con loro cioè prima cioè per quanto riguarda posce tuttavia anche in passato quando abbiamo preso in considerazione l'idea di collaborare con qualche scuderia i ragazzi e le ragazze di posce si sono sempre sembrati più autentici più affini i nostri valori poi dice stanno gestendo meglio di chiunque altro il passaggio all'auto totalmente elettrica cioè quelli di posce alla fine abbiamo stretto un bel legame cioè secondo me io glielo dico bello chiaro a frederick arno siamo molto lontani da quella che è l'essenza diciamo così dall'aver capito che cos'è takoyer cioè se takoyer è un'azienda che dovrebbe portare avanti una partnership con posce perché ha interpretato meglio di tutti il passaggio dalla dai motori termici ai motori elettrici allora secondo me bisogna pensare di andare a fare a Louis Vuitton cioè a fare qualcos'altro perché cioè qua siamo in un mondo che è completamente diverso che è quello della meccanica che è quella della tradizione e non può essere quello dei motori elettrici che io non nego potranno essere il futuro secondo me non saranno il futuro totale nel senso che ci sarà comunque sia sempre una minima percentuale di auto di auto termiche che saranno destinate insomma non lo so a che cosa alle competizioni probabilmente non lo so a cosa ma insomma non è che l'auto termica di per sé sparirà comunque detto questo che è una mia valutazione il fatto di scegliere un attore io sinceramente non so neanche questo patrick damsey qui non ho mai visto un film e non so di chi cosa si occupa io non so che ruoli ha fatto cioè so che faceva un medico mi sembra ma io non ho mai visto neanche una scena di questo qui potrà essere anche bravo come marlon brando ma io dico che come pilota questo qui non vale assolutamente nulla anche perché è vecchio e non ha nessun tipo di possibilità diciamo così di diventare un professionista nel mondo delle delle auto ok questo è quello che penso io quindi secondo me questo qui è un testimonia che oltretutto è anche tutto il tutto sbagliato concludo diciamo così questo 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 articolo ok questo questo con me di commentare questa chiacchierata che faccio che faccio con voi ora frederick arnault ha la possibilità di investire soldi credo perché è una famiglia ricchissima e di non soltanto andare ad attingere cosa che non è assolutamente sbagliata nell'heritage di tagoyer ma anche quello di andare avanti cioè quello di spingere sul futuro cioè solo sul presente che c'è il movimento 0 2 c'era già prima che arrivasse lui quel quel bilanciere di nano tubi non se ne frega nessuno cioè di quello che cioè se va a miglioramento lo metti se non lo metti e chiuso il libro cioè non è ma non è che si può portare avanti un'azienda con il bilanciere in nano tubi che non sappiamo neanche se porterà poi dei vantaggi poi a livello a livello pratico e patrick damsey lì un attore che non che vorrebbe far il pilota che non è assolutamente nessuno nel mondo delle nel mondo delle auto quindi arriviamo fattivamente a quello che è la mia la mia idea di tagoyer tagoyer è un'azienda che è sempre stata produttrice di strumenti strumentazione ok e anche a diciamo così delle competenze da un punto di vista diciamo così dello studio dei dei materiali carbonio e quant'altro quindi io quello che dico è naturalmente posce potrebbe essere sicuramente un interlocutore valido perché posce a una storia in comune che parte dalle man dal film e le man che cioè c'è un qualcosa che lega sicuramente storicamente posce con tag e tagoyer ma quello che dico io che bisognerebbe tornare cioè che bisognerà se uno vuole ulteriormente allargare la percezione di tagoyer oggi come oggi bisogna allargare quello che sono quella che è la la realtà non solo gli attori cioè e per realtà io intendo il mondo delle competizioni cioè io non parlo di formula 1 perché uno non arriva in formula 1 così dal giorno alla notte e comunque sono investimenti magari troppo importanti anche per tagoyer ma sarebbe possibile fare che ne so io la 24 ore di le marche o un campionato assimile con la partnership di porsche che ci mette le auto e un team tagoyer quindi un team vero e proprio fatto di meccanici fatto di studio di tecnici ingegneri messi lì da tagoyer per io non dico vincere perché non è importante vincere importante è partecipare esserci in quel in quei campionati e parlare fare un articolo di quello quindi rientrare nella passione della meccanica delle auto da corsa delle 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 questo è e portare avanti piloti ma piloti veri non questi qui che sono attori che messe lì cioè questi ci si possono anche portare all'inizio per diciamo così fare un po di fare quello che diciamo così portare un po di persone ma poi alla fine mettere dentro piloti veri e cercare diciamo così di competere in quelli che sono quei campionati quello sarebbe la svolta e quindi però questo implica anche che lui si occupa anche di informatica che la lasci perdere cioè quindi lasci perdere l'azienda che ha lui personalmente di informatica e si concentri diciamo sì nelle corse io capisco che è una che è una richiesta non da poco capisco che per certi versi potrebbe essere anche un rischio potrebbe essere anche una limitazione di una carriera che so io a louis vuitton o a battere a pesca te ma potrebbe essere la chiave di svolta entrare diciamo così nella nell'essere o diventare un personaggio diciamo così di rilievo nel mondo della dell'orologeria una volta una volta per tutte cioè oggi non è stato uno che costruiva orologi ma è stato uno che ci aveva una visione quindi questi discorsi qui che io ho sentito dire no cioè di questo articolo che praticamente è una farsa no cioè un qualcosa dice il punto di forza di frederick arno è saper creare segnatempo davvero fenomenali cioè frederick arno non ha creato neanche un segnatempo c'erano già tutti innanzitutto già prima di lui che arrivasse e poi comunque non ha creato nulla ma l'importante non è questo l'importante è la visione oggi aveva una visione diciamo così di tagoiere che non ha al momento frederick arno ma frederick arno ha la sua l'età per cui io naturalmente continuerò a fare questi video perché ho fiducia in questo ragazzo come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti